La Calabria è fanalino di coda in Italia nel 2020, anno dell'inizio della pandemia da Covid-19, per livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il servizio sanitario eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket. Lo rileva la Fondazione Gimbe sulla base delle valutazioni del Ministero della Salute in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie, come emerge dalla recente pubblicazione del monitoraggio dei LEA attraverso il nuovo sistema di garanzia. Da quanto si evince dall'analisi, in Calabria nel 2020 il punteggio totale degli adempimenti della regione sulle cure essenziali è di 129,4 centesimi di euro, il massimo è di 300. La Calabria inoltre si è posizionata ultima tra le regioni e province autonome ed è risultata inadempiente secondo il nuovo sistema di garanzia, per chi ha registrato un punteggio insufficiente nell'area della prevenzione distrettuale e quella ospedaliera. La Fondazione, è spiegato in una nota, ha effettuato alcune analisi sia per confrontare la resilienza dei servizi sanitari regionali nel 2020, sia per valutare le differenze tra le regioni del nord, colpite con violenza dalla prima ondata pandemica e quelle del sud, di fatto risparmiate da tale impatto grazie al prolungato lockdown. In dettaglio dalla valutazione dei 22 indicatori suddivisi in tre aree, la regione si colloca al ventunesimo posto per l'area della prevenzione e per l'area distrettuale e al ventesimo per quella ospedaliera.